Platea delle grandi occasioni per il convegno sulla riforma dello sport, promosso in Sala Tramoggia e Molini Marzoli di Bustarsizio dall'Associazione delle Società Sportive Bustesi con l'assessorato alla partita. Qual è il messaggio dell'assessore alle tante società sportive che hanno aderita questa sera? Sicuramente il governo deve stare vicino allo sport, l'istituzione del Ministero allo sport è già stato un primo segnale, però non dobbiamo perdere di vista il valore fondamentale che oltre alla Costituzione è quello di aiutare lo sport anche con un sostegno economico.